Ciao, sono Francesca, ho 17 anni, frequento la classe dell'Advance come insegnante Brian. Tre attività che mi sono piaciute particolarmente sono state nuoto, pattinaggio sui roller a cork e la discoteca. La mia preferita è stata la discoteca, il nome della famiglia era Mangan, erano molto accomodanti, tutto quello che chiedevi te lo davano, quindi erano molto gentili, la stanza era fantastica, grande, spaziosa, i letti, comunque le lenzuole erano pulite, eccetera, il cibo, sì buono ovviamente, non il cibo italiano, però buono, il centro della città, Killarney, è fantastico, molto particolare, molto diverso rispetto all'Italia, mi è piaciuto molto il parco nazionale in particolare, con gli animali, i scogliattoli, eccetera, eccetera.